Amici di Android Blog, è un tablet che sta girando questo video, il Gigaset QV830 andiamo a tentare subito un controluce in questa pessima giornata ventosa e nuvolosa tentiamo l'adattamento alle luci che sembra abbastanza pronto come di consueto camminiamo per vedere quanto il video riesce a rimanere stabile proviamo a avvicinarci per vedere l'adattamento al fuoco, adesso ci spostiamo di nuovo ok, velocità verso sinistra e verso destra con cambi di luce vento che sembra di essere a ottobre piuttosto che a maggio tentiamo uno zoom, zoom presente anche a questa risoluzione che è la Full HD zoom digitale ovviamente per questo video girato ripeto da Gigaset QV830 a 1080p